Se non ci uniamo, ritorna Evo Morales. Se non ci uniamo, la democrazia perde. Se non ci uniamo, la dittatura vince. Insomma, oggi rinuncio alla mia candidatura in omaggio alla libertà. La presidentessa d'Interim della Bolivia, Yanine Agnez, ha annunciato così giovedì sera il suo ritiro dalla corsa presidenziale in vista dell'elezione del prossimo 18 ottobre. Yanine Agnez ha spiegato di aver preso questa decisione nel tentativo di evitare una vittoria del candidato del MAS, il Movimento per il Socialismo, Luis Arce, del fino dell'ex presidente Evo Morales.